23. Movimento interiore Alcune volte mi sento del tutto estranea e lontana dalle persone che conosco anche da molto tempo. Perché? Commento È possibile per due ragioni. Primo, perché sei assorbita da un movimento interiore a cui segue poi un cambiamento nel tuo modo di essere. Secondo, perché non hai raggiunto nessun cambiamento interiore e vivi una specie di stasi per cui riaffronterai la realtà esterna a te in maniera quasi uguale a come l'affrontavi prima, separata dagli altri.